recupero l'orologio garmin se ridico è la vera dove si esce adesso è una bucana e questo ti provi anche a te eccoci ma Mauro, è vero? è vero! 20 birre a testa Garmin 600 euro si ma non si può andare in grotta questa roba, c'è un'altra roba per i froccetti è vero, è vero, è vero a a a a a a a a Sì la stessa l'abbiamo a fare l'aria ti chiedi l'arragge se si tratta di un euro se si tratta di un euro se tratta di un euro se tratta di un euro qui è aperto la bomba è aperta è facile sburta più forte che ti ribalti l'auto